Buongiorno e benvenuti a un altro tutorial della DeBiasi Automatismi. Sono Andrea DeBiasi e oggi vi insegnerò come programmare i vostri telecomandi. E ora vediamo insieme come. Per prima cosa è molto importante individuare la tipologia di automazione che abbiamo sul nostro portone. Per capire come procedere dobbiamo individuare la tipologia di telecomando in nostro possesso. Se è di tipo argentato con i quattro pulsanti telescopici la nostra centralina sarà verde con un pulsante rosso centrale. Mentre invece se il nostro telecomando è nero con i quattro pulsanti a vista la nostra centralina sarà di tipo nero con una calotta bianca superiore. Per programmare sul nostro telecomando argentato il tasto di funzione che farà andare la nostra automazione dobbiamo individuare il tasto di programmazione sulla nostra centralina a muro. Sollevate il coperchio bianco che contiene la luce di cortesia e con un piccolo strumento appuntito premette l'ultimo pulsante a destra della centralina che accenderà la luce LED 1. Una volta accesa la luce premette il pulsante del telecomando che volete programmare e a questo punto avrete abbinato la centralina con il telecomando. Il telecomando nero invece si abbina agendo direttamente sulla scheda del motore che si trova dove c'è il traino del vostro portone sezionale. Scoperchiate quindi la calotta del motore facendo una lieve pressione dietro e individuate il tasto radio sulla scheda del motore che è di colore rosso. Premetelo, si accenderà una luce LED rossa e successivamente schiacciate il bottone sul telecomando che volete abbinare. A questo punto il vostro telecomando è programmato e azionando il bottone selezionato farete funzionare il vostro portone sezionale nella classica funzione di apertura, blocco e chiusura. È inoltre possibile per entrambi i sistemi che abbiamo appena visto cancellare la programmazione di un tasto. Per cancellare un pulsante del nostro telecomando argentato dovremo agire sullo stesso pulsante che abbiamo visto precedentemente. Andiamo quindi a schiacciare con uno strumento appuntito l'interruttore radio accendendo la luce LED 1 ma teniamolo premuto fino a quando esso lampeggia. A questo punto schiacciamo il bottone del telecomando che vogliamo smemorizzare. Se intendiamo invece cancellare un bottone del nostro telecomando nero dovremmo agire sempre sul medesimo bottone che abbiamo visto precedentemente quello rosso sulla scheda motore in alto. Premete quindi e tenete premuto il pulsante rosso radio fino a quando il LED rosso comincerà a lampeggiare. A questo punto premete il pulsante sul telecomando che intendete cancellare. Abbiamo visto quindi come programmare e sprogrammare i tasti dei nostri telecomandi ed è possibile farlo per tutti i tasti e tutte le volte che vogliamo a piacimento. Vi ringrazio per aver seguito il nostro tutorial e vi invito a rimanere collegati sul nostro canale YouTube Debiasi Automatismi Communication.